Che cosa vuol dire innovare? Questo perché voi possiate trovare lo spunto da portarli a casa da vetrinato nella prossima settimana su che tipo di piccola innovazione o grande fare. L'innovazione di processo è quella probabilmente più nota a tutti durante i progetti di innovazione all'interno delle aziende, quindi quello che vedete è il processo della Ford e questa qui sotto invece è una fabbrica che chiaramente... L'altra grande innovazione è andare a prendere tutto quello che ha fatto Amazon. Quando lui alle riunioni diceva io voglio che il cliente diceva... Quindi se voglio fare innovazione di processo, quindi ho già un prodotto, un servizio, voglio ridurre dei costi, per esempio migliorare le mie performance operative, voglio ridurre il tempo tra l'acquisto della materia prima e ci sono alcuni dei risultati ottenuti dai nostri interventi di consulenza, come vedete infatti che questo cosa vogliamo fare? Vogliamo riposizionare i nostri prodotti, i nostri servizi, possiamo voler differenziarci tra i nostri concorrenti oppure vogliamo arrivare alla produzione, all'erogazione di nuovi prodotti e servizi in tempo più veloce? Per esempio una strategia che ha sotto una struttura, la struttura può essere per esempio indicata da questa che è una nostra proposta, uno strumento che vi portate a casa subito oggi.